Bene ragazzi, finita la Champions League abbiamo i primi verdetti, tre qualificate su quattro agli ottavi di finale, passano avanti Lazio, Inter e Napoli, Milan eliminato che andrà in Europa League e questa è una grande notizia, non per una questione di guffaggio, non per una questione di antipatia tutt'altro. Bene, sapete bene che anche l'anno scorso nel periodo della Champions l'unica squadra tra le tre che a mio parere dove andare avanti era proprio il Milan, vi ricordate nel tabellone quando ci fu la suddivisione da una parte Napoli, Inter e Milan eccetera, ecco preferivo il Milan, però quest'anno ragazzi assolutamente no e il motivo è molto semplice. Prima di iniziare vi invito ovviamente a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, a commentare, a dirmi la vostra partita, la vostra, sulla partita del Milan, insomma parliamo di questo, non parlerò della Lazio, la Lazio si giocava il primo posto, l'Atletico ha vinto e partirà come seconda. Ecco un dettaglio non da poco, le squadre italiane sono tutte seconde nei gironi per cui avranno dei sorteggi complicati, ecco questo senz'altro. Milan che va in Europa League e questa è una bella notizia in virtù della questione legata al Mondiale per club che si terrà nell'estate 2025 a giugno per club, perché la Juventus in questo modo ha un po' più chance, poi dobbiamo aspettare che il cammino del Napoli termini quanto prima possibile per avere un po' più certezze e aspettare poi criteri definitivi per quanto riguarda l'accettazione al Mondiale stesso. Sappiamo che ci devono andare due squadre italiane, sappiamo che viene preso il ranking della Champions League e quindi capiremo esattamente se andrà la Juventus o andrà qualcun'altra squadra, però questa eliminazione anzitempo del Milan sicuramente è una buona cosa per la Juve, ripeto. Il Napoli non deve andare messa fino alla semifinale, ecco questo è il cammino che dovranno fare le italiane per far sì che la Juventus vada in questo Mondiale. Mondiale che dura un mese, che è tipo il Mondiale normale per le nazionali, però si giocano con tutte le squadre del mondo, oltre quelle europee ovviamente anche le arabe, le asiatiche, le americane, per cui sarà una cosa, un format molto divertente, per cui carino, che si tiene ogni quattro anni, capite bene, che inizia ad avere una certa importanza e poi tanti 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 soldi. Quindi è importante esserci. Ora, tornando alla partita del Milan, io ho visto un Milan che ha meritato la vittoria un primo tempo, dove è stato sicuramente messo sotto dal Newcastle, ma poi il Newcastle si è sciolto come neve al sole, alle prime difficoltà, boom, crollo verticale. Dopo il gol di Pulisic, una squadra che ha quasi rinunciato ad attaccare, e a mio parere dopo il primo, cioè il gol di Joelinton è bellissimo, proprio bello, bello, bello. Però poi ragazzi le situazioni offensive che hanno creato, ecco, poca roba, veramente poca cosa. Newcastle che esce da tutte le competizioni, e questa è sicuramente la delusione più grande anche per il pubblico del Newcastle stesso, però ragazzi la vittoria del Milan è meritata. Il secondo gol è di pregevolissima fattura. Piolic fa i cambi, li sa fare, in questa partita l'ha dimostrato, butta dentro freschezza, dopo un inizio così così di Jovic che sbaglia una palla disastrosa, poi dopo entra in partita, carbura subito e va anche a creare delle situazioni interessanti. Il gol di Schuques è bellissimo per come si sviluppa. La cosa strana del Newcastle in generale è che nel secondo tempo si è sfaldata totalmente, nelle distanze tra i reparti. Gli esterni bassi non esistevano più, cioè alla fine c'erano i centrali in balia delle avanzate del Milan. Non lo so, una squadra che veramente ha mostrato anche dei limiti di tenuta nella partita stessa. È un Milan che nel momento di difficoltà ha continuato, ha insistito e ha raccolto insomma quanto seminato durante la partita. Per cui merita la vittoria assolutamente. Poi con l'altro occhio, ho rischiato di diventare veramente strabico oggi a fuori di guardare queste due partite così, ho guardato anche Borussia Dortmund Paris. Un Borussia che nel primo tempo ha creato, 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 poi nel secondo tempo è stato più di marca parigina. Questo pareggio porta il PSG in gli ottavi di finale. Avrei goduto anche nell'eliminazione eventuale del Paris, ma sarebbe stata una cosa effimera. Meglio che vadano avanti, tanto si schianteranno, non mi sembrano così tanto forti per arrivare alla vittoria finale, nonostante Mbappé, nonostante la grandezza di Mbappé, nonostante anche la bravura di Luiz Henrique, che però questo Paris non mi piace, non mi convince tanto. Però vedetela così, il Milan impegnato in Europa League è sicuramente una cosa buona anche per il campionato per noi, per quanto riguarda la qualificazione in Champions, per quanto riguarda lo spreco di forze mentali e nervose, poi vedremo quanto dureranno là. Secondo me il Milan è anche una squadra bella forte che può arrivare fino in fondo, non sarebbe male per loro, per cui vedremo come affronteranno questo impegno. Pioli, nonostante tutto, si salva dalla critica forte nei suoi confronti, e rimane ancora ancorato alla panchina del Milan. Si parlava già di un cambio anche in corsa, Pioli sta là adesso, e probabilmente mannerà anche il panettone, salvo collassi e disastri in campionato. Ma credo che questo Milan, insomma, abbia una buona base. Okafor veramente mi è piaciuto molto anche quando è entrato, Suquese tanto criticato, ma fa un golletto niente male. Anche che è entrato, ripeto, dalla panchina, tranne Pobega, che è un cambio che non ho capito, salvo Loftus-Cic, non abbia avuto delle problematiche fisiche, stento a capirlo, però hanno tutti dato il loro contributo. Forse Teo è un po' in ombra per gran parte della partita, però anche lui ha dato un'accelerata al tutto nel secondo tempo, ha inciso anche lui in certe ripartenze, ha sprecato anche il gol della chiusura della partita, perché facendo quel tiro là un po' meglio, la partita si chiudeva sul 3-1 e finita così, questo è. Però ripeto, un buon Milan, avesse giocato così anche l'andata, il Milan avrebbe avuto meno rimpianti, i rimpianti però ce li avremmo avuti noi, nel non andare sicuramente magari al Mondiale per Club. Adesso siamo in balia del ranking, che arriverà, ripeto, a fine dicembre, e stranamente arriva subito dopo, circa 7-8 giorni, dalla Corte di Giustizia Europea che si pronuncerà per quanto riguarda la Superlega. Vi ricordo che il 21, la data in cui si pronuncerà la Corte di Giustizia Europea, capiremo se l'UEFA ha monopolio nell'organizzazione delle partite. Insomma, tutto in divenire. Per cui io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato in questo video, il focus l'abbiamo tenuto sempre sulla Juve, abbiamo parlato anche delle altre. Complimenti, ripeto, al Milan, bene così, che sia andata così, per il Mondiale, per l'Europa League, per gli impegni così di campionato, che si mescoleranno a una gran fatica del Milan stesso, e questo sicuramente porterà dei benefici per la Juve, che avrà solamente l'impegno di campionato e al massimo di Coppa Italia. fatemi sapere le vostre opinioni sotto nei commenti, sono curioso di leggere che ne pensate, se ne sapete di più anche sul Mondiale, scrivete pure, se avete indiscrizioni, sono qui, tutto ricchi, pronta ad ascoltarvi. Un abbraccio, belli! Grazie!